Allora, con il contesto di Sussanatico che sono da tutti i compagniuti, non è passato a perdita di definizio, che è già perché le saggezioni sanitarie o quelle. Beh, ti io dico questa scuola che la fa, potete anche una lezione da perché? Non so se la dottoressa ha fatto sia, ma... Ah, perché? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.